Ciao a tutti e bentornati sul canale. Questa è la prima video ricetta che vi propongo dopo il rientro dalle ferie. Questa video ricetta in realtà è un mini tutorial per realizzare le cipolle caramellate. Le cipolle caramellate si possono utilizzare in sbagliate ricette in sbagliati piatti, tra cui i panini, i famosi panini per hamburger, quindi il famoso hamburger americano. In questo video quindi vi faccio vedere come realizzare le cipolle caramellate. Sigla! Dopo aver sbucciato, lavato e affettato le cipolle, le metto in una casseruola con un filo d'olio, le lascio stufare per 2 minuti, aggiungo il sale e le lascio cuocere per 10 minuti con il coperchio. Aggiungo ora lo zucchero di canna, lo cospargo per bene, do una mescolata e lascio cuocere per altri 10 minuti sempre con il coperchio. Aggiungo ora la birra e lascio continuare la cottura delle mie cipolle caramellate senza coperchio finché tutti i liquidi non saranno ben ristretti. E voilà! Le cipolle si sono caramellate e il liquido è bello cremoso. Questo è il risultato che dobbiamo ottenere. Il mio video termina qui, spero che vi sia piaciuto, soprattutto che vi sia stato utile e che lo riproporrete e fatemi sapere come sono venute le vostre cipolle caramellate. Vi lascio giù nell'info box tutti i link ai miei canali social così non perderete nulla di ciò che posto e mi raccomando non dimenticate di visitare il mio sito internet www.stefaniclub.it Ciao e alla prossima!